Salute e benvenuti a noi in curso, ho i treggi del mese di l'ora del 2017, a l'ora di nuovo di oggi, iniziamo con una cronaca in carbonio, non testa, due macchine sderruttate, una Vogue, una Freelander del Land Rover e una Citroen del su Mattessi Meri. Su un proprietario è un ufficio di 30 anni, dove intervengono i vigili del suo luogo di carbonio, dovevano il suo luogo antipreale, un liquido infiammabile. Iniziamo a Sant'Antiogo, è stata fatta oggi, l'autopsia, il suo volo clinico dei pauli, il suo ipio, che è morto tra i miei rascetti, due mesi. Il suo padre e la mamma hanno donato avviso, quando si è morto tra i miei rascetti, che il suo ipio non si è morto tra i miei rascetti, ma quando si è morto tra i miei volontari del suo 188, già non c'è ancora niente. L'autopsia deve essere escludita, se è responsabile di altre persone o di morte violente, l'autopsia fa comprendere, di fatto, i testi accontessano in questa vita di uno e più di due mesi. Il suo lavoro è nel 188 dei mesi dell'Irasa, il suo lavoro è un lavoro nazionale in Sardegna, in Sardegna, è in grande parte di una manifestazione, è stato fatto da Fenial Wheel, Filca Cisle e Filia CGL, contro i suoi contratti, che non è stato rinnovato, e beccio, e prima di un anno. Il tema nazionale si vengono su di sasaluri e di spensioni, ma poiché per toccare la regione sarda, si vengono pure del raballo su primi, su di tempi, ci vengono 68 opi, da inghizzare, da Calincuna, estetica inghizzare, 40 anni fa, dunque se degusto sarà fuori. Poi per toccare la sanna, con forma di 3 miliardi di portafogli, 600 milioni di raballo, vengono finito su ingusto mesi, ci vengono ancora 300 milioni di donai in appalto a introdurre su 31 mesi di era, e da barra 2,1 miliardi di vai in istresano su benidorsi. Il sistema è in paese, altre città, nazionali, Bari, Torino, Napoli, Palermo e Roma, adesso si sa manifestazioni che si fa. In Castello si inghizzai via Roma, a posti sul corteo dei sedi, si si spostai, poi si presentai, devronti ai autoritarisi regionalisi. Andavo su Domunoasa, c'è Navara, c'è Navara 15 del mese ilasa, a tramarcia dei amministratori, di bruschetotto, sindico e vice sindico, poi pregontai a regioni sarda di fai alcuna cosa, di fai maniera, che si può essere l'Ompi ha una cambia tra la regione amministrativa di Santo Marco e una parte della foresta di San Marganai, una cambia di fai con il Comune d'Eglise, che si può donare ai cittadini su Domunoasa, chiedenti in questa zona di Santo Marco, in questa azienda agricola, con i servizi su di importo, che vince il Comune d'Eglise, non lo usare donato. Dunque questa altra marcia, c'è Navara 15 del mese di ilasa. Andavo a Carbonia, il Comune di Vericica, oggi, può accadere il traballo del collegamento di questa rezza idrica in singorogere di via dei Glicini, via delle Cameglie, via delle Gardegne e via Giardini, c'è il resto di sacco, a Serrara, già il degusto menziano, se ti dice Serrara, va c'è il sotto, e ora va a Serrara, finché ha il 5 degusto merito. A Varoso in Carbonia, sicuramente i sattopi, a Parigiauso delle amministrazioni comunali, nei rioni e nei frazioni di Carbonia, con Savuna, di ammostai e scomunitarisi, inovitarisi, che per Tocanta, scomitavano su dei quartieri, appustisi dei sattopi, su Vattuso in Bacquavisi, Cortoghiana, Sganauso, Serbario, Barbusi e Carbonia Nord, c'è Navara 15 del mese di ilasa, ai 5, in questa sala dei sattopi, su dei sattopi, su dei sattopi, che ha l'assessore del centramento, Paola Giolas, e la presidente del suo consiglio comunale, Daniela Marras, ha presentato il suo regolamento, ai cittadini, con i suoi biventi in Carbonia Centro, in questa zona di Piazza Ciusa, Piazza Italia, Piazza Matteotti, Piazza Repubblica, via Ava Italiana, via Gramsci, via Cagliari, fino a Salompi, a Salocali Dari, di Cannas, di Viciuso, in questa zona di cittadini, che si sceglie su elettorali, votano in questa scuola elementare, via Roma. In questa zona di Santuani, su Ergio, il suo prologo, il suo giuro di queste amministrazioni comunali, a Parigi, nel mercatino, del Natale 2017, su 21, su 22 e su 23, di Meseira, in Prazza, 4 novembre, di Ammangiano, vieno a Amerì, mercatino, con traballo, produttore di artigiani, obbisti, e commercianti locali. Un'occasione, va a shopping, ma vincere, va a comprare i sulti, a regalare, su Pasquice, da Chieniri. Doña D, Ammangiano, musica, a parte di Ammere, gioco su Ispipius, e Castangia, a Budottuso, Sazerrara, Savoru, 23, gandu, ai 6 mesi, un ceressi, unu brindisi, bo a festai, i bintanus, de attivitari, de sassozio prologo. E questa vera, sultima noa, bo, noasa in curso de hoy, a bo sartus, grazia, sa desisigus informazioni, in sardo, in canale 40, come te sempre, chiesi vai pregiui, si darò su, a tu via i grazi, adios. Sous-titrage Société Radio-Canada